Ciao a tutti, sono Enesi e oggi sono qui con un nuovo video in cui vi devo annunciare chi ha vinto il mio giveaway della Japan Candy Box la Kawaii Box mi ha mandato la mail con scritta la vincitrice, la mail insomma, della persona che ha vinto e niente, io ora vi faccio il video, vi dico qual è la mail della vincitrice barra vincitore e ho già scritto a questa persona nella mail, quindi eccola qua allora, è saraericapostolaghi-gmail.com allora, saraericapostolaghi-gmail.com, scrivimi qui nei commenti se hai visto il video e rispondimi appunto alla mail che ti ho mandato perché se non rispondi entro un tot dovremmo rifare l'estrazione quindi, mi raccomando, rispondi presto e mandami i tuoi dati ovviamente nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, via mail in privato a quella che ti ho mandato ringrazio tutti quanti per aver partecipato, vi mando un grosso bacione e appunto è ancora in corso il mio giveaway ufficiale, quindi mi raccomando partecipate e oggi ho postato un altro video, questa mattina, quindi se non l'avete visto andatelo a vedere andate a cliccare appunto sull'ultimo video che ho postato oggi e perché aprivo appunto una box intera di blindback vi mando un bacione, un salutone e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti!